ok raga benvenuti in un nuovo video oggi naturalmente come tutto avete riconosciuto siamo su football draft di fifa 21 ma per telefono non siamo su xbox non siamo né ma né su xbox né su playstation siamo sul telefono perché i problemi così non riesco a entrare nel server a comunque cosa ho detto allora io già sono a livello 6 come vedete dunque già un po ci ho giocato vi faccio vedere cosa faremo oggi apriremo tutti questi pacchetti qua che è cambiata l'animazione è cambiato tante cose dal video che ho portato su football draft 2020 allora io direi prima di tutto vi faccio vedere le partite che le partite ragazzi sono praticamente al settore come venduto nella ropa league tutte le altre poi c'è il tipo del torneo che tu devi fare andate ritorni tutti e due per passare di girone allora qua c'è metti toc è uscito modric parego gommets oscar silva io devo prendere gommets 85 87 allora prenderei 86 chiedira che è molto buggato come giocatore vidal vediamo qua chi c'è uscirà è uscito dublas costa o ivan berisic vabbè io prendo dublas costa che comunque anche lui è un giocatore molto buggato puoi prendere i mu murasi ci va benissimo qua c'è uscito un bella ceppa di minchia con ms t va bene nessuno guardiero va bene poi invece è uscito costa smanolas va benissimo anche costa smanolas io prendo scrignia ragazzi non mi prendo buonucci perché ne ho proprio senti parlare mi serve un portiere buono mi deve uscire o donna ruma e tornano massia ora che si vedete è molto cambiato da quando portava il football draft difenti questo invece football draft 2021 che è fatto molto che è fatto molto bene sinceramente ho buona veniamoci ora tanto vero ci vediamo il nostro bacambù florenzi bellissimo ma c'è una serie a non mi scena anche un draft della serie a poi ho uscito a kimi provo a far così tanto per fare un po più di contesa a parte che chi mi può giocare anche lì amma mia mi sta scendendo neanche un st allora provo a giocare lorenzini insigne st perché è l'unico modo per termine st buono qua troviamo brosovic mi servono due difensori mi devo trovare due difensori mo sennò è finita niente sergio roberto chi è scelac vabbè paolo ovec perché vediamoci paolo ovec prendo izzo gioca a posto di lui niente ragazzi vabbè comunque ce la giochiamo così e via cosa possiamo fare non possiamo fare niente speriamo comunque di poterci a casa con di wolvens vedete ragazzi è fatto a gironi ogni giorno ci si è andata che ritorno devi arrivare o primo o secondo per superarlo vai è cambiato molto dal football draft a 20 uh c'è attacco nostro sì c'è azzeccato qua ragazzi ho veramente sparato a casa perché dai gol 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 di izzzo 1 a 0 allora defend queste screen è sicuro che screen è infatti era sicuro a 100 per cento che la screen è allora defend ma non ho sbagliato ho sbagliato sperando che gigio riesce a parare la gigio e gol di volvere ok ma non lasse me lo ferma grande mano las boli cartellino giallo ragazzi dobbiamo cercare almeno di segnare un altro gol che se no qua non ti subito col kidira infortunato hachimi vabbè qua ci dare notifica che è iniziata l'altra partita dai o non facciamo un cambio gioco hachimi ragazzi faccio tutti i cambi perché secondo qua niente niente di niente che qua è finito abbiamo perso 2 a 1 già la prima giornata l'abbiamo perso 2 a 1 ci prendiamo due colpa con silver pack e 100k io però non ci posso credere aver perso contro sta squadra perché vabbè dai ragazzi mi consolerò andando aprire prima un silver pack vi faccio vedere che cambia tutta l'animazione ma si apre da sopra cm ciao ciao sì vabbè adesso ragazzi sono tutti persone che comunque le devo trovare dunque alla fine lb del tottenham davis grande davis pacchetto proprio da buttare accesso ok vedete questa dimozione work out mica un if si è bandiera e bandiera cica a courtois ok 89 courtois non lo buttiamo al cestino non c'è nient'altro di buono sotto però tanto per courtois raga non si butta mica accesso a greco chiama chiama pc pacchetti vediamo se ervi spagnolo su uso non c'è un cazzo è sto pacchetto c'è proprio pacchetto da buttare accesso rm del monaco martins non è male cioè cosa di buono sotto, non c'è niente di buono Dani mamma mia che pacchetti più penosi che sto trovando brasiliano oscar lads c'è sono pacchetti più che rivoltanti ok vcm che schifo di pacchetti che merda di pacchetti proprio cm a parte mamma mia almeno qua ci abbiamo trovato un nacho un baccaio co e radens, almeno qualche giocatore del centro abbiamo pigliato, cm cruz che schifo c'è vinicius c'è vinicius che magari qualcosa riusciamo a vendere abbiamo 400.000 crediti ok valdenanium c'è qualcosa sotto? non c'è un cazzo qui c'è qualcosa marocchino era akimi akimi 83 pure non 85 necce che avessi che pacchetti che pacchetti è vinore vai abbiamo altri 80 più vediamo che ci troviamo ck paolo lopez 83 ok non è da buttare accesso perché non è proprio da buttare accesso alla fine può servire rm rapina mozzi cosa c'è un cazzo danviera italiana cc si di guabbo 84 non si butta al cesso ok lb del napoli mario rui 82 non si butta proprio al cestino l'altro ragazzo è proprio il virus cm silva 86 non si butta accesso neanche germane ok va benissimo l'altro pacchetto st icardi 85 non si butta neanche lui accesso perché c'è anche questo è un buon un buon pacchetto apriamoci gli altri 8 pacchetti cm allen pacchetto un po' scrauso cm spagnolo del liverpool tiago non si butta neanche lui il cestino c'è anche hazard lo del bruce dormito 83 tagliafico vabbè ragazzi qua non è che stiamo spacchettando i gran pacchetti un tt83 va bene con zaga matuidi gomez questo bel pacchetto l'acqua campe va benissimo lautaro martinez va più che buono ok belga belga del real ancora courtois ancora courtois ancora courtois dai basiliano basiliano cm che pacchetti ma abbiamo due pacchetti special pack blisk altro pacchetto troviamo qualcosa cm harold proprio pacchetto del cazzo vai apriamoci anche l'altro special pack europa league francese sissoko ok 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 martinez ok non è un brutto pacchetto non si burta al cesso sicuro dai italiano rm del sassolo berardi vabbè non è un brutto pacchettino pichè leno vidal che va vai ma troviamo stelling ramos mi prenderei più ramos ok ragazzi abbiamo l'altro super pic cazzo rimbavano janky mitch sterling e camarara vabbè io prenderei più mitch allora neve 72 vorrei che schifo di pacchetti special pic allora lui non mi interessa c'è o akanji 82 o gareth b però ragazzi si prende molto più bale vai apriamoci quest'icon ok c'è lì mi interessa scherzo che schifo di pac veramente schifosi l'unico che lui mi interessa molto è shimmel perché mettono è proprio già c'è anche un board che ha 98 allora mi prenderei okaccia perché nerem potrebbe farmi più contesa poi abbiamo 44 mila crediti direi di prenderci dai un altro steve pack così uh arnold rushford insignia ragazzi mi prendo molto arnold perché mi può giocare a trequartista direi di non lo so 150 mila vediamo apriamoci tutto 150 mila su uh bellissimo sto in con l'anno 85 vai apriamoci una uh uuuhu due icons chi è wardong oh no ragazzi putto molto su wardong mi dispiace ma me lo prendo 150 vai ragazzi ho speso tutti i crediti oggi eh e se tira atletico madrid joe felix molto buono joe felix joe felix abbiamo un altro apriamocelo cacca pukpa ragazzi io mi prendo cacca scusatemi se non prendo pukba ma ragazzi prendo cacca a 100% varianto del black friday vediamo cos'è champions league belga del real ancora courtois ma che c'è ho trovato tre courtois in tre pacchetti tre courtois cioè è una cosa impressionante cioè ma veramente 100.000 vai icon buonissima icon germano cm matuno balac va bene va bene ok vabbè avete i due dopo sarà più spacchettare niente allora vediamo siamo che abbiamo scaricato qualche ccp completa nessuna ok ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto abbiamo trovato ormai l'assidio di courtois è esistente l'assidio di courtois comunque spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un like iscrivetevi al canale ragazzi attivate la capolina ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao